In Serie B si giocherà la 32esima giornata ed arriva il momento dell'importante derby calabrese di ritorno Cosenza-Crotone, in programma domenica sera alle ore 21 allo stadio San Vito Marulla. Il Cosenza prova a voltare pagina ma occorre subito una scossa, la formazione silanea a digiuno da 5 partite, 3 KO e 2 pareggi, ma dispone ancora di un minimo margine di vantaggio rispetto alla zona che scotta. In vista delle derby con i pitagorici di mister Stroppa non ci sono defezioni e tornerà tra i titolari Daniele Sciaudone, anche Izco e Litteri aggregati al gruppo. Sta sicuramente meglio il Cortone che viene da sei risultati utili consecutivi che lo hanno portato fuori dalla zona retrocessione, ma non ci si può fermare qui, hanno affermato in settimana sia il tecnico Stroppa che il centrocampista Andrea Barberis. Senza dubbio sarà un derby importantissimo per entrambi, attualmente il Cosenza a 35 punti, mentre il Cortone a 33 sogna il sorpasso ai danni dei lupi, anche per dimenticare la sconfitta dell'andata, allorché la squadra di Piero Braglia vinse con un gol di Idda a Lezio Scida. Ed intanto in vista delle derby di domenica abbiamo ascoltato l'assessore allo sport del comune di Cortone, Giuseppe Frisenda. Il Cortone è sulla buona strada per la salvezza? Sì, aspettiamo questa partita con i nostri cugini di Cosenza, che venga il migliore e speriamo per un'unione campionellistica che sia il Cortone. Un messaggio in vista del derby? È una festa del calcio calabrese, quindi va vissuta con questo spirito e sono sicuro che sarà comunque una bella serata.